Emanuele Bevilacqua, secondo coach Sacrata Basket e secondo coach assistente di Claudio Saccoccia, Campetto Ancona. Ciao Emanuele. Ciao. Allora prima di tutto parliamo dell'antel 15 eccellenza che è pure giusto e che sono più piccoli. Partita di oggi contro Major Senegallia? Sarà una partita veramente torta, loro sono secondo noi a pari merito, dovremo dare il massimo e dovremo avere il massimo da tutti per riuscire a spuntarla, speriamo bene, se giochiamo come sappiamo ce la possiamo fare. Bene così, invece parliamo prima di lasciarti dal tuo lavoro che fra non molto inizierà la partita, Campetto Ancona avete giocato la settimana domenica scorsa? Abbiamo giocato il saluto scorso con Maceratese che erano secondi in classifica a due punti a noi e abbiamo vinto una partitaccia a punteggio bassissimo ma diciamo che tra le due migliori difese del campionato la nostra che era il migliore è riuscita ad averla meglio. Prossima partita, sempre Campetto Ancona? La prossima partita ce l'abbiamo domenica in Amandola, una trasferta insidiosa anche per il loro campo e sempre per Mazzella che è il miglior giocatore del campionato. Under 15 eccellenza per concludere con Olimpia Pesaro mi sembra, conoscete qualcosa in mezzo a questa squadra? Beh già le abbiamo viste, abbiamo visto anche gli ultimi risultati delle loro partite, insomma diciamo che lo scoglio più grande è la partita di oggi e è meglio che ci concentriamo prima su questo. Bocca al lupo per oggi! Che è?